buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv questa mattina abbiamo un ospite qui in studio ve lo presento subito è Maurizio Tomassini buongiorno Tomassini un sociologo è stato coordinatore d'ambito è stato ormai in pensione ma ha lavorato in regione in un comparto di grande interesse sociale quindi ha una visione ampia di tutto il nostro territorio e soprattutto dei nostri problemi ma prima di intavorare una conversazione con Maurizio in base agli articoli pubblicati dai giornali questa mattina vediamo l'almanacco del giorno ed ecco il santo si tratta di Sant'Aldo Eremita è un santo di cui in realtà si sa poco visse nell'ottavo secolo ed è sepolto nella cappella di San Colombano a Pavia la tradizione lo vuole un carbonaio fu comunque un'eremita che visse gran parte della sua esistenza in solitudine e in preghiera vediamo anche le previsioni del tempo il tempo si mantiene instabile su tutte le marche con piogge e rovesce intermittenti entro il tardo mattino per correnti umide che provengono dal mare le massime si manterranno tra i 4 e 10 gradi con qualche punta verso i 15 gradi e i venti sulle coste spireranno con una tensione media da nord dell'interno invece da nord ovest le temperature sono in calo il mare si mantiene ancora oggi mosso ed ora apriamo i giornali vediamo le aperture sulla pagina del resto del Carlino abbiamo una influencer giovanissima, Veronica si tratta di una bambina, una bambina ucraina che insegna a diventare cheerleader che cos'è il cheerleader? ebbè è una pratica sportiva che assomma diverse composizioni abbiamo la ginnastica ritmica tante cose insomma che il pubblico ha potuto vedere durante l'arrivo della Befana all'aeroporto dove Veronica si è esibita insieme alle sue compagne ha 10 anni, è nata a Kiev fa appunto la cheerleader dall'età di 3 anni ed è la campionessa di Ucraina, Australia e Austria ha un profilo Instagram è un canale YouTube con oltre 400.000 iscritti e video che arrivano con milioni di visualizzazioni Tomassini, una bambina che fa l'influencer ebbè c'è da considerare su questa cosa sia in senso positivo che forse in qualche senso un po' contrario cosa ne pensi? ma questo è un tema centrale per quanto riguarda la nostra società in questo contesto poi particolare in cui stiamo vivendo diciamo i social soprattutto i social che hanno una rete importante come Instagram, anche TikTok sono quelli che sono frequentati maggiormente dagli adolescenti come dire siamo un po' anche noi perché naturalmente il tema è centrale soprattutto per le dipendenze che è una questione seria le dipendenze da social e da internet degli adolescenti e quindi bisogna sempre prendere quella parte positiva dell'uso e anche di come questi strumenti vengono poi messi a disposizione degli adolescenti, dei bambini e dall'altra parte ecco attenzionare soprattutto anche che queste diciamo che queste che queste dipendenze poi non portino a delle vere patologie Bene, comunque dobbiamo fare le nostre congratulazioni a Veronica e anche alla sua mamma Anna Andrienco per quello che è stato fatto insomma per la bravura di queste bambine che hanno dato un saggio veramente eccezionale durante la festa all'aeroporto invece un fatto molto molto preoccupante è quello che pubblica il resto del Carlino ma anche il Corriere Adriatico nella seconda pagina stragi di gomme al parcheggio del cimitero una decina di auto con i pneumatici tagliati rabbia del quartiere Poderino non si vive più hanno detto i residenti e c'è un sospetto su una banda di ragazzini dunque il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì ed è un danno considerevole perché pensate a tagliare quattro gomme in una macchina e poi magari sostituirle con il carro a trezzi e con tutto il resto costa veramente tanto ma questo è un problema che si ripercuote a Fano dato che non poco molto tempo fa si sono verificati danni anche ai vetri delle auto parcheggiate nei pressi dell'aeroporto il vandalismo Tomassini a Fano è un problema veramente è una punta di un iceberg direi per un malessere di tutti i della classe adolescenziale diciamo della città ma è un tema molto serio questo occorre naturalmente analizzare nello specifico le questioni in questo caso sono questioni che riguardano danneggiamenti di auto ma il tema della devianza in questo caso anche di fatti come questi va certamente messo in un processo anche di verifica e poi di esemplare anche bisogna assolutamente porre delle norme che in qualche modo poi facciano pagare veramente queste bravate che non sono bravate Allora poniamo l'immagine di una bilancia da una parte ci mettiamo il vandalismo che è ricorrente graffiti sui monumenti case sporcate danni alle telecamere danni ai lampioni, alle panchine, ai parchi eccetera dall'altra parte mettiamo invece la responsabilità poca incisività delle forze preposte all'ordine pubblico responsabilità delle famiglie responsabilità della scuola responsabilità della istituzione dove pende il piatto della bilancia Tomassini? Beh qui il piatto della bilancia voglio dire è tutto in un contesto di interrelazioni naturalmente la questione complessa va affrontata rispetto a quelle che possono essere anche delle modalità di far vivere e mettere assieme le comunità adesso non per fare un paragone ma purtroppo le nostre comunità in questi anni sono andate progressivamente in degrado questo vale per la nostra città ma anche per tutto il paese questo è un tema è un tema emergenziale sì ora parliamo d'altro ma non si può archiviare un tema così importante bisogna che insomma venga posto all'attenzione di chi di dovere Epifania in Vaticano il gruppo della Pandolfaccia ha avuto un grande successo nel giorno della Befana vestiti con i loro vestiti medievali hanno così fatto un bello spettacolo hanno rappresentato un bellissimo spettacolo in via della Costituzione e in piazza San Pietro spostando l'attenzione a Fano di questo gruppo vediamo che domenica la Corte Malatestiana li vedremo in pronti per la battaglia un'iniziativa di archeologia sperimentale in programma dalle 10.30 alle 12.30 del mattino e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 inoltre il 31 gennaio alla Sala Morganti dove c'è la mostra sui registri malatestiani che se non l'avete vista vi consiglio di andarla a vedere variante per i monaci trappisti meglio recuperare l'esistente ebbene l'avevamo annunciata e non sarebbero mancate le opposizioni alla proposta di realizzare un nuovo convento sulle pendici di Montegiovi in realtà sulle pendici del prelato ma insomma siamo lì in questo contesto ambientale variante per i monaci trappisti il circolo politico Gramsci contro la scelta dell'amministrazione comunale di modificare lo strumento urbanistico infatti è in atto una variante una miopia politica hanno detto quelli del circolo Gramsci così come ha detto un po' l'opposizione che ha un po' mugugnato rispetto a questa decisione invece in quest'altro articolo vediamo il sindaco e sì sindaco scusate l'assessore regionale Stefano Aguzzi che annuncia nuove provvidenze per le scogliere a nord di Fano quelle che dovrebbero proteggere la costa tra Larzilla e Fosso Seiore per il progetto intanto ha messo a disposizione 230 mila euro al comune di Fano che sarà l'ente attuatore ed ora parliamo di scuola parliamo di scuola perché vediamo che c'è un gruppo di genitori che contesta la scelta della Padalino di effettuare per il prossimo anno scolastico quello del 2003-2024 sì 2023-2024 scusate la settimana corta cioè cinque giorni alla settimana il sabato si fa festa Padalino debutto al veleno per la settimana corta il Consiglio d'Istituto ha deciso di concentrare la frequenza da lunedì al venerdì ma alcuni genitori hanno presentato dei riclami perché? perché occorre ovviamente riorganizzare tutta la vita familiare perché fare sette ore di lezione per un bambino a scuola potrebbe essere defaticante potrebbe essere stressante poi c'è anche tutto il pomeriggio si dovranno fare anche altri compiti a scuola saltano tutte le attività extrascolastiche ma quando pranzo un bambino quando esce da scuola alle tre e mezza del pomeriggio insomma veramente ci sono molte obiezioni c'è comunque da dire che la maggioranza dei genitori è stata favorevole alla decisione pur votando anche i ragazzi e i genitori delle terze che il prossimo anno non vanno più loro figli a scuola però ci sono anche le osservazioni della preside della preside del Padalino la vediamo qui nella fotografia fotografia del Corriere Adriatico e Lucia Di Stefano eccola qua settimana corta malumori tra i genitori del Padalino Tomassini è una decisione questa che per i ragazzi insomma è significativa stare sette ore a scuola non tutti i giorni della settimana ma solo per coloro che hanno scelto dei corsi un pochino più specializzati come teatro, musica, sport insomma uscire quasi alle tre del pomeriggio andando a scuola alle sette e cinquanta è una bella tirata diciamo che il tema della scuola e il tema della scuola soprattutto negli orari è stato affrontato anche recentemente dal Ministero quindi ci sono delle linee di indirizzo che il Ministero ha dato soprattutto per dare alle famiglie la possibilità di avere una scuola che vada a coprire l'intero tempo pieno e quindi anche le mese i fondi del PNRR sono anche destinati proprio per per dare alla scuola questo compito anche educativo e formativo anche su aspetti come quelli sportivi quindi c'è una linea di indirizzo di portare la scuola a tempo pieno rispetto alle esigenze delle famiglie che in qualche modo lavorano o hanno diciamo attività per le quali diciamo conciliare l'attività di sostenere i loro figli al pomeriggio e naturalmente il lavoro è difficile quindi l'indirizzo anche ministeriale è quello di fare delle scuole un'attività anche pomeridiana e integrarle con attività sportive ricreative quindi questo è un po' l'indirizzo sì comunque per quanto riguarda la Padalino si imparava il fatto che manca il locale mens perché mentre nelle elementari quando si fa la settimana corta si può fare il tempo pieno qui invece nelle medie il tempo pieno non esiste e quindi insomma i genitori si mostrano un po' preoccupati e sono una buona percentuale perché chi si è mostrato favorevole è stato il 53% mentre il 47% ha detto no quindi è stata una decisione presa solo a maggioranza e comunque il fatto che hanno votato anche i genitori delle terze insomma è un po' così pretestuoso passiamo ad un vecchio problema quello del biodigestore alto là ai consiglieri fanesi il biodigestore che si fa a terre roveresche dovrà essere votato anche in consiglio comunale di Fano e ci sarà una grossa presenza di cittadini di terre roveresche in questo consiglio comunale i quali vorranno guardare in faccia i consiglieri comunali fanesi come voteranno un impianto questo che solleva dei problemi di carattere ambientale ma ci sono poi anche altri dietro altre manovre insomma per quanto riguarda anche l'assetto di ASET i suoi rapporti con marche multiservizi eccetera che noi tutti conosciamo all'attacco del comitato a difesa del territorio un attacco che si evidenzierà appunto in sede di consiglio comunale ed è morto il diacono Enzo Rossi fu maestro elementare a Occiano aveva 82 anni il vescovo ha detto è stato un modello di carità nei rapporti con il prossimo domani l'addio i funerali saranno celebrati domani nella parrocchia della santa famiglia a Fano 2 alle ore 15 vediamo anche qualche notizia sulla pagina di Pesaro dove si parla del caro vita caro vita stangata da 2384 euro a famiglia bollette e tutto il resto le stime della Feder Consumatori per il 2023 il presidente gli utenti a Naspano serve più controllo su tariffe e profitti Tomassini il caro vita è un aspetto sociale un problema sociale che incombe sul nostro territorio ci sono molte famiglie che non arrivano alla fine del mese e questi ulteriori aumenti la benzina che sale quasi a 2 euro al litro il gas molti stanno al freddo e anziani ammalati insomma veramente la situazione è grave tu te ne sei occupato tantissimo quando eri in regione della situazione delle persone più fragili in questo momento c'è una soluzione cioè le istituzioni possono fare qualcosa di più è chiaro che le diseguilanze sociali in questi ultimi anni sono andate progressivamente aumentando questo è un fenomeno ormai certificato soprattutto una parte del cosiddetto cento medio si sta impoverendo e anche chi ha pensioni magari voglio dire non ha proprio pensioni al minimo ma ha pensioni quelle di un lavoratore ha difficoltà a far quadrare i conti a fino a mese con gli aumenti di coste e l'inflazione naturalmente questo è un tema che come sappiamo investe tutto il paese ed è un tema sul quale faremo i conti nel 2023 in maniera molto pesante a mio modo di vedere dopo il periodo che abbiamo passato del covid e che comunque anche quello è stato un periodo molto complesso soprattutto dal punto di vista della salute questo sarà un periodo complesso dal punto di vista anche della nostra situazione economica e delle diseguaglianze sociali che ne derivano beh tutto comunque deriva almeno in gran parte deriva perché poi c'è anche una speculazione strumentale deriva dal fatto della guerra tra Ucraina e Russia e si spera che si arrivi veramente ad una soluzione in modo che tutto poi ritorni almeno come pre-guerra un altro problema che può essere collegato anche al caro vita è quello del calo delle nascite sì perché avere molti figli costa e quindi le famiglie che si trovano in difficoltà cercano di limitare insomma i loro figli con le vuote o spizi pieni il nostro declino intitola ancora oggi il resto del carlino secondo uno studio della CGL la nostra provincia è la più sterile delle Marche è scivolata in dieci anni a meno 37% delle nascite una percentuale importante Tomasini sì qui siamo veramente arrivati a come dire alla proprio alla spia rossa questo è un paese che in qualche modo avrà delle tutto il processo avrà delle repercussioni pesantissime sul sistema naturalmente ritornare ad avere dei tassi di natalità come avevamo nei periodi del dopoguerra poi voglio dire periodi anche dove quando siamo nati noi sarà un'impresa quasi impossibile soprattutto perché poi ormai il nostro sistema ha creato delle difficoltà evidenti per quanto riguarda la natalità è assolutamente messo come una priorità nazionale passiamo al corriere adriatico e parliamo di scogliere parliamo di scogliere perché vediamo che l'assessore regionale Aguzzi ha dato una buona notizia a quello che si sta procedendo nell'interburocratico per la realizzazione delle scogliere a nord di Fano un investimento di 4,4 milioni di euro dopo gli investimenti di una cifra altrettanto sostanziosa per la parte sud quella di Metauriglia la regione invia il documento al comune Aguzzi vuole accelerare l'iter tre anni per avviare i lavori i tempi in realtà sono piuttosto lunghi non saranno brevi però insomma almeno si è iniziato l'iter burocratico quindi c'è la soddisfazione dei concessionari di spiaggia e vediamo qua ancora proteste per quanto riguarda la ferrovia del Metauro un abuso la pista ciclabile sulle sedime della ferrovia proteste per gli espropri l'associazione F delle ferrovie del Metauro replica i nostalgici del primo progetto e qui il dibattito sembra così protrarsi alle calende greche veramente infinito questo dibattito tutte le volte vediamo che non appena c'è un piccolo documento una piccola dichiarazione subito c'è la contradduzione altre proteste osservazioni a non finire la ferrovia Fanurbino e le sue pertinenze sono tutelate per legge dice l'associazione ferrovie del Metauro che ovviamente propende per la ripristino di questa linea ferroviaria che è stata ormai abolita da oltre 30 anni una struttura una infrastruttura importante per il nostro territorio ed ora vediamo gli effetti dell'alluvione ecco il bando per Serra Sant'Abbondio una località che è stata molto interessata dalle alluvioni scorse per gli aiuti alle imprese il comune di Serra Sant'Abbondio stanzia 16.000 euro contributo massimo di 4.000 poi vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di un salasso di bollette 3 milioni in più ma saranno gli evasori a pagarli il sindaco Olivetti illustra il bilancio soprattutto i costi alle categorie l'annuncio le tasse non verranno alzate il caro bollette peserà per 3 milioni di euro in più sul bilancio comunale ma saranno gli evasori a pagarli cioè il sindaco Olivetti insiste sul recupero dell'evasione aumentando gli accertamenti e cercando di scovare coloro che non hanno pagato le tasse far pagare a loro gli aumenti considerevoli che anche i comuni oltre alle famiglie devono pagare per l'aumento delle bollette delle fonti energetiche ed ora veniamo all'aumento dei carburanti ecco la stangata il gasolio ormai a peso d'oro alle stelle e anche la benzina insomma non per sapere i fatti suoi Tomassini ma a casa sua la temperatura è stata abbassata o rimane ai livelli degli anni scorsi diciamo che usiamo un po' di buonsenso un criterio di risparmio naturalmente tenendo presente che noi che siamo un po' più anziani voglio dire dobbiamo anche far conto del della temperatura in funzione di eventuali inciampi dal punto di vista fisico sì che possono esserci veramente però l'unica reazione è quella del risparmio sì perché ovviamente si cerca di equilibrare l'esigenza delle bollette e l'esigenza di avere una temperatura insomma quanto meno accettabile e dobbiamo ringraziare anche le temperature di questo inverno che non è un inverno molto freddo ancora questa mattina nonostante che il tempo sia un po' perturbato non è molto freddo e questo insomma incide abbastanza perché poi se arrivasse il freddo glaciale veramente i costi salirebbero ancora di più vediamo invece un articolo che riguarda direttamente Pesaro vediamo come la ZTL e l'area pedonale vengono ritoccate dal sindaco Ricci i più sicuri saranno i mezzi e i pedoni comune e comando di polizia locale hanno portato dei correttivi all'interno dell'APU la velocità massima consentita non è di 30 km non è di 50 non è di 30 ma è di 10 km all'ora vediamo qui in questa tabella la mappa dell'area pedonale urbana con tutte le vie che saranno interessate appunto dal divieto dell'uso dei mezzi motorizzati e soprattutto del modo in cui ci si dovrà comportare per fare delle passeggiate intanto in via Curie è un cantiere con il minimo dei disagi i tecnici stanno predisponendo i lavori per rinnovare l'arredo urbano la città più bella in vista anche di Pesaro capitale nazionale della cultura per il 2024 e qui vediamo il sindaco Matteo Ricci alle prese con uno che lo ha diffamato con una persona che lo ha diffamato il sindaco si dichiara disposto a perdonare ma con un risarcimento a fini sociali un risarcimento simbolico non sono migliaia di euro che il sindaco pretende ma insomma vuole che il perdono sia corrisposto una persona che fa un atto concreto di pentimento il sindaco Ricci ha testimoniato nel processo in cui è parte offesa per insulte e minacce sul web si tratta dell'accusa contro un 51enne pesarese accusato appunto di diffamazione per una serie di frasi su facebook contro Ricci e secondo l'accusa i commenti erano lesivi della onorabilità del sindaco e poi continuano le proteste dei pesaresi per le antenne le nuove antenne che vengono erette in città ci sono ormai tre comitati che protestano per questo impatto ambientale secondo loro l'esivo sia della salute che dell'aspetto della città secondo appunto loro i residenti di Novilara si rivolgeranno al Tar finto fogliame attorno al palo per renderla meno invasiva si cerca un po' di camuffare le antenne per non vederle però ci sono insomma anche questo è un modo un po' io mi ricordo quando a Fano c'era un'ordinanza che evitava l'uso dell'acqua potabile perché i nitrati superavano i 50 milligrammi non so se era al litro o al metro cubo non ricordo bene allora cosa ha fatto la legislazione ha aumentato i 50 milligrammi per cui il fatto restava ugualmente però la gente poteva bere l'acqua del rubinetto ma non la beveva perché poi tutti si andavano ad approvvigionarsi alle fontanelle quella volta ma sì eravamo eravamo negli anni 70-80 quindi molto tempo molto tempo fa vediamo ancora l'articolo sulla pagina di Urbino sinergie con il territorio e investimenti sul turismo Scaramucci Federico Scaramucci dice ed è un possibile candidato del centro-sinistra lancia due idee per Urbino Federico Scaramucci è già consigliere comunale segretario del partito democratico di Urbino un possibile candidato sindaco del centro-sinistra per il 2024 praticamente già cominciata la campagna elettorale siamo alle porte ma il 2024 è vicino e si cerca di così raccogliere quello che le amministrazioni comunali hanno seminato e siamo in conclusione Tomassini non possiamo non parlare della tua bella iniziativa a Palazzo Bracci Pagani una iniziativa che dimostra la passione di Maurizio per la fotografia non è la sua professione è una sua passione ma lo ha fatto ad un livello veramente di qualità veramente elevato molto molto elevato molti visitatori a questa mostra Tomassini contento quale sensazione hai avuto ma guarda la diciamo la questione che mi sono posto mettendo queste foto è di far rivivere un periodo storico che era la nostra gioventù quindi c'è cioè chi viene a vedere sono spesso persone che hanno l'età nostra ma vengono anche persone che l'età nostra non hanno si parla degli anni settanta gli anni settanta sì e trovano i loro nonni trovano i loro parenti trovano diciamo questa questa atmosfera di questa città che era un paese e che era un paese sul quale in qualche modo io mi sono sono impegnato a renderlo con la fotografia a renderlo come come l'ho 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 visto al tempo e questa cosa dell'impatto che ha avuto sulle persone che sono venute è certamente la cosa più più interessante perché è un'emozione cioè c'è gente che si è emozionata vi consiglio di andarla a vedere questa mostra resterà ancora aperta fino al 29 di gennaio quindi una bella iniziativa terminiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per l'ascolto grazie anche a Maurizio Tomassini per aver collaborato appunto a questa trasmissione e vi do appuntamento domani alle ore 7 buona giornata merivetta